In Puglia manca poco, mentre in altre regioni sono già partiti i saldi estivi 2018. Dopo la Sicilia, super sconti iniziati domenica 1 luglio, lunedì 2 luglio è la volta della Basilicata, mentre in Puglia i saldi estivi prenderanno il via sabato 7 luglio. L'unica vera novità che ci si attende è un ribasso degli sconti, o meglio, meno saldi su tutto il settore dell'abbigliamento, calzature e accessori. Il trend rispetto ai precedenti cambierà davvero in maniera lieve. In particolare, l'abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,1%, come a gennaio 2018, in leggera diminuzione rispetto allo scorso luglio, quando lo sconto si attestava al 21,9%. Le calzature segneranno un ribasso del 20,4%, inferiore rispetto al 20,7% degli ultimi saldi invernali. Nel complesso, per l'abbigliamento e calzature, lo sconto sarà del 20,9%, in leggerissimo calo nel confronto con gennaio, meno 21%. Il record della convenienza spetta alla voce Indumenti, che con meno 23,2% registra la riduzione maggiore, in riduzione rispetto alla scorsa estate, il ribasso minore agli accessori, meno 14%. I saldi di fine stagione si tradurranno in un flop, con le vendite che torneranno a registrare numeri negativi. Lo prevede il Kodakons studiando la propensione della spesa dei consumatori. In base alle previsioni, gli acquisti caleranno mediamente del 5%, addirittura al sud meno 15%. Ma gli outlet e le boutique d'alta moda delle grandi città faranno il pienone di presenze, mentre soffriranno i piccoli negozi, le periferie e i centri commerciali. Grazie a tutti.